Questo invece è un twist, a lui è sempre piaciuto molto il twist, ma non è il twist again di Chubby Checker che lui chiama Twist Gay, ma un twist sardo, un twist che hanno fatto i grandi barritas nel 64 del grande Benito Urgo e si chiama Gammale Twist, e diceva, lascia la pecora, prendi il cavallo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti